Valorizziamo una struttura strategica al servizio della comunità di Fano e della provincia di Pesaro e Urbino, il Codma, patrimonio immobiliare cruciale della Regione Marche. Si è aperta così la conferenza stampa che si è tenuta questa mattina a Rosciano tra l'assessore regionale Francesco Baldelli e il sindaco Massimo Seri. L'obiettivo è quello di riqualificare gli edifici esistenti e le aree esterne dell'immobile, tra gli interventi, le asfaltature delle parti ammalorate, l'installazione di nuovi parapetti, reti di supporto, una nuova tinteggiatura e impermeabilizzazione delle coperture. I lavori si divideranno in due momenti, il rifacimento della strada a luglio mentre per gli edifici nel mese di ottobre. Oltre 1.350.000 euro di investimenti per un patrimonio immobiliare che la Regione Marche definisce strategico. È strategico per le sue dimensioni, 2.200 m2 di edifici direzionali, 4.500 m2 di mercato ortofrutticolo e soprattutto 18.500 m2 di aree all'aperto, tra parcheggi, viabilità e spazi utilizzabili per qualsiasi tipo di emergenza. Per questo, questo patrimonio abbandonato negli anni passati dalla Regione Marche diventa invece strategico. Per questo, tali investimenti in una visione complessiva che vuol far sì che questa struttura possa ospitare anche un centro di servizi regionali. Perché? Perché è un centro facilmente raggiungibile sia dall'autostrada con il casello in prossimità, ma anche una struttura che viene fiancheggiata dalla superstrada Fano-Grosseto. Una struttura che si presta per qualsiasi occasione, eventi, iniziative, corsi di protezione civile dove ha la propria sede o emergenze, non per ultimo, il servizio di tamponi e vaccinazioni. Da ricordare che negli ultimi anni il CB Club Mattei ha reso questo luogo dignitoso e decoroso con alcuni interventi di riqualificazione e migliorie interne ed esterne. Con l'aggiunta di questo nuovo investimento dalla Regione Marche, il Codma potrà contare di diventare a tutti gli effetti un punto di riferimento per le tre valli della nostra provincia, Metauro, Cesano e Foglia. È un intervento importante il risultato di un dialogo tra istituzioni, tra l'amministrazione comunale e la Regione, ma la cosa che mi piace sottolineare è che la Regione ha considerato, considera questo patrimonio strategico e questo è un elemento innovativo, importante, fondamentale ed è anche seguito da fatti concreti perché c'è un intervento significativo di riqualificazione e qui devo ringraziare la Regione, l'assessore Baldelli per aver voluto inserire questo intervento significativo, per cui è un intervento importante per una struttura strategica, quindi oggi è una buona giornata.